Musica Cari spettatori buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del videogiornale il TG Mattina. Oggi mercoledì 12 luglio 2023 San Fortunato. Subito le prime pagine dei quotidiani. In uscita oggi Novara viceò della stampa tra Malpensa e Logistica Novarese un'alleanza per crescere insieme. Lo Scalo Lombardo guarda con interesse agli insediamenti oltre Ticino alle porte del capoluogo. Incontro di amministratori e operatori con il ministro Giorgetti. A Novara manca il parapetto. Un operaio cade da quasi 4 metri. Per fortuna non è grave successo in Corso Vercelli. Lì aiuto a rinascere l'Ucraino Ossolano Matiuk al fianco dei soldati feriti al fronte in Florida per aiutare i connazionali feriti nel conflitto russo-ucraino. All'outlet saldi anti-crisi. Il primo fine settimana è di sconti a Vico Lungo con presenze in crescita. Ma l'avvio della stagione il giovedì è una novità ancora da analizzare. Tende nei negozi poche le richieste di contributo. Il bando va in proroga e quindi ci sarà maggiore tempo per fare richiesta. Malpensa chiama a Novara. La notizia di apertura. Tra l'aeroporto Lombardo e il polo logistico un rapporto strategico sempre più forte. Il comune rivede gli ingressi in centro. Liberiamo la ZTL dal traffico di furgoni. Il nuovo piano della mobilità sostenibile con più controlli e veicoli elettrici. Caso Fregonara nuovo volto sociale. Sarà residenza per 11 giovani disabili. La fine dei lavori è prevista in primavera. Ospiterà la sede dell'Anfas Novara nell'immobile di corso risorgimento 193. Ci sarà una cucina, palestra, sala da pranzo e delle camere da letto. Rapina, minaccia e ferisce un passante condannato a sei anni e mezzo a Novara. I fatti avvenuti in centro ha aggredito anche un vigile. Ieri a Novara sul cavalcavia di corso della vittoria un'auto probabilmente alimentata a GPL ha preso fuoco davanti al semaforo. Dunque il cavalcavia è stato chiuso al traffico per un paio di ore. Maltrattamenti in comune a Varallo Pombi ha prosciolto l'ex sindaco Alberto Luigi Pilone. Dopo i furti a Trecate la giovane è stata fermata a Napoli e aveva colpito in alcuni supermercati. La goletta promuove i due laghi ma occorre tenere alta la guardia. È emerso un miglioramento rispetto all'anno precedente soprattutto per il bacino Cusiano. Una petizione per il ponte tra Grignasco e Boca servono lavori urgentemente, il ponte è a rischio. Il riconoscimento a San Maurizio do Paglio dagli scarichi alle acque pulite, bandiera blu al Lido di Prarolo. Quattro notti a tutta musica, Pella festeggia così le 20 edizioni del festival. Domani i rock'n'roll gelli e venerdì tocca alle deviazioni spappolate. Poi le notizie dal VCO Vassili dall'Ossola alla Florida per aiutare i soldati ucraini feriti. Maciuk segue la riabilitazione di chi è senza arti, sono i nostri eroi. Unione Valli dell'Ossola, Bruno Toscani è confermato presidente, entra in giunta Marco Zanoletti. A Ornavasso i lavori in superstrada rinviano la chiusura del ponte, il cantiere di Anas fino ad Anzola dirotta molte auto verso il paese. Il sindaco dice che i due interventi in contemporanea avrebbero generato il caos. Dalla Caritas al turismo del lago, letture e canti anche in inglese, a Baveno il nuovo parroco e Don Giorgio Borroni. Riapre l'antica chiesa di Brovello Carpugnino che ha più di mille anni, si trova in frazione Graglia Piana, ammessa ogni lunedì alle 18. Lancio del tocco per 121 giovani neodiplomati al Ferrini Franzosini, a Verbani, al Teatro Maggiore, assegnate anche 15 borse di studio. La cerimonia è tornata dopo tre anni di stop causa Covid. Omenia, la festa dei liceali, non rinunciate ai vostri sogni, consegnate gli attestati e i riconoscimenti ai ragazzi meritevoli. Orta Festival, ultimi concerti nel segno di Brahms e Bach, venerdì e sabato nella Chiesa dell'Assunta, domenica in Basilica all'isola di San Giulio. Spiriti e creature fantastiche rivivono a Cannero Riviera, stasera a Piancassone c'è la rassegna Lunaria. E poi weekend con la festa patronale all'Oratorio di Cavaglio d'Agonia, concerti dal vivo dei Belfagor e Radio Zapping. Poi al Rona Music Festival, la tappa dei Dirotta su Cuba, ritorno entusiasmante, venerdì sul Lago Maggiore, la reunion dopo due anni di stop. E la densa anni 90 rivive a Verbania con DJ Time, venerdì show all'Arena del Teatro Maggiore con Albertino Fargetta, Molella e Prezioso. Prima di passare ai nazionali lo sport, sono Boulé e Pronovara, le regine del mercato. Il Verbania può stupire in eccellenza tanti accordi in anticipo rispetto agli anni passati. Poi in Serie C c'è il giovane Boscolo Palo per la porta del Novara. Riccardo Bagaini, debutta ai Mondiali Paralimpici, voglio puntare più in alto possibile, l'atleta del GSH Sempione gareggia nei 400 metri. La stampa nazionale, caos, PNRR, allarme, conti pubblici. Bruxelles pronta a riesaminare i nuovi piani italiani, tempi lunghi però per i fondi. Social card, arriva una social card da 380 euro per i più poveri. Giorgetti, il ritardo diventerebbe un problema. Schlein, la premier, ostaggio di inchieste e scandali. A Strasburgo, Greta guida gli attivisti. L'Unione Europea pensa solo ai giochi elettorali. Assolto dopo la palpata, la rivolta dei ragazzi. Dieci secondi sono infiniti. Pensate, è stato assolto dopo aver infilato la mano nelle mutande di una minorenne per dieci secondi. È stato reputato che è un tempo breve per un'accusa, per formalizzare un'accusa. Una decisione questa che sicuramente farà discutere. Poi cambiamo argomento, andiamo a Kiev con un bellissimo gesto invece. In questo caso il cuore di Solomia, la mamma e il battito del figlio dopo il trapianto su una bimba. Un momento davvero toccante e commovente quando questa mamma ascolta il cuore del proprio figlio battere in un'altra bambina. Andiamo adesso al Corriere della Sera. Ucraina nella Nato, ma non ora. L'alleanza, mancano alcune condizioni. Zelensky, incertezza assurda. Meloni, vede Erdogan, nasce un consiglio bilaterale con Kiev. Macron invierà i missili a lunga gittata F-16 dagli USA in Turchia. Per quanto riguarda l'Ucraina ci sono notizie da parte di Zelensky che chiede che la Nato non tenga l'Ucraina in un limbo sull'adesione. PNRR, ritardi e liti, 10 modifiche per avere i fondi fitto, dice l'intesa con l'Europa. Anche qui si parla dell'aiuto di 382 euro per 1 milione 300 mila italiani, via alla card per le spese alimentari. E poi Wimbledon, l'impresa di Sinner, è in semifinale e dice vado a giocarmela con gioia. Il terzo italiano a riuscirci nella storia e lo aspetta Diokovic. Italia oggi, gli economici PNRR, pagamenti in ritardo, i compensi dei professionisti, registrano slittamenti tra i 60 e i 200 giorni rispetto agli obblighi di legge che prevedono un massimo di 30 giorni per effettuare i versamenti. Solo le 24 ore di Imon, inflazione dura da battere, arriveranno altri aumenti dei tassi. Così appunto il presidente e CEO di JP Morgan, la recessione, impossibile prevedere un atterraggio morbido o duro. Pressioni inflazionistiche tante, dalla spesa per Covid a green economy e militare. Dunque il tutto poi si riflette su di noi, il caso di dirlo. PNRR, il governo rivede con l'Unione Europea 10 obiettivi su 27 della quarta rata e si cerca di accelerare i tempi. Tecnologie made in Italy, spesa economy entro l'anno. Ci sarà una legge e al vertice a Wilnius, l'Ucraina, nella Nato, quando ci saranno le condizioni e l'ira di Zelensky, che si dice irritato dalla decisione presa dal vertice della Nato. Si pensava a una richiesta e un avvio dell'entrata dell'Ucraina appunto nella Nato. Già da questo vertice che era stato organizzato proprio per discutere di questo. e di altre annessioni come quella della Svezia. Andiamo ora al meteo. Il maltempo è subito arrivato già da questa mattina, presto all'alba, e avremo tempo variabile quest'oggi e anche domani. Tempo poco nuvoloso in giornata, poi nella sera ancora possibili piogge e temporali. Per quanto riguarda le temperature, anche queste tra oggi e domani non muteranno 20 gradi la minima, 31 gradi la temperatura massima. È tutto, vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.